È difficile, soprattutto in questo momento. Purtroppo abbiamo vissuto insieme questi anni, per cui è dura, come ti avevo già detto prima, è dura anche parlarne. Non è che uno non lo vuole fare, ma in questi momenti qua pensare a Luca, che non c'è più, diventa veramente difficile. Poi, come ho già detto, in questi ultimi anni abbiamo trascorso dei giorni bellissimi insieme, dei ricordi bellissimi. Di conseguenza faccio fatica a pensare a quello che è successo. La vittoria all'Europeo è stata per lui un parziale risarcimento di quello che era stata la più grande delusione della sua carriera a Wembley 31 anni fa con la Sampdoria. Forse lui voleva diventare presidente della Sampdoria, anche per chiudere quel cerchio. Noi amiamo la Sampdoria, per cui la Sampdoria ci sta dentro, è come una sorella, un fratello. Noi viviamo con questi colori dentro e lui altrettanto, per cui il suo desiderio, quando parlavamo, era proprio questo di un giorno di diventare presidente della Sampdoria. Lui ha vissuto anche, persino la nazionale, come una forma di preparazione a tornare alla Sampdoria da presidente, che era l'unico ruolo che non aveva ancora svolto. Eh sì, era un desiderio che lui voleva colmare, lo sentiva dentro, i tifosi li sentiva, la gente, tutti. Purtroppo è mancato, anche perché io ho degli aneddoti, quando lui mi raccontava ci vedevamo nella camera la sera, dopo il nazionale, io e Attilio, per noi è dura, è dura. È un fratello, ci mancherà Luca. Tu hai segnato due gol importantissimi nella storia della Sampdoria, uno col Malins, che lui era squalificato, ma quello di Torino, la sera in cui lui disse ho firmato, ho firmato per noi, lo sai che tanti sampdoriani quello firmato per noi se lo sono tatuato sulla pelle? Eh sì, sono ricordi bellissimi, purtroppo. Anche se è dura dire che in questi momenti è difficile, perché pensare che Luca non ci sia più è un dramma per tutti noi, per tutta la gente del mondo, perché Luca era ben voluto da tutti, un uomo di spessore, non ho aggettivi, cioè veramente incredibile, non è possibile, non è possibile.